amici miei bentornati sul canale io dopo un lungo periodo di vacanze all'isola d'elba sono tornato qua a pistoia per una settimana e sto recuperando quei film che ancora trovo nelle sale che avrei voluto vedere là sull'isola ma che purtroppo non sono arrivati al cinema e ho iniziato con alien romulus questo film che era stato presentato come un nuovo capitolo sui nostri xenomorfi ma che si sarebbe collegato fra il primo cioè l'alien di ridley scott e il secondo dell'86 aliens scontro finale di james cameron quindi credevo che avrebbero raccontato la storia di quella colonia che poi trovano morta sterminata nel film di cameron comunque sono andato a vederlo all'omnia center di prato adesso vi dico la mia fortunatamente era ancora nelle sale nonostante sia uscito il 14 agosto io l'ho visto più di un mese dopo ma c'era solamente ad uno spettacolo nel tardo pomeriggio in sala eravamo pochi dietro la macchina da presa fede alvarez che è un regista che non sempre mi convince con man in the dark in campo più horror si era riuscito a soddisfarmi per esempio con il remake della casa visto una sola volta quindi potrei cambiare idea però quella volta proprio non era riuscito a piacermi come come il remake del classico dell'horror questa volta beh non che fossi così curioso perché non sono un amante della saga di alien non ci sono cresciuto ho visto i primi quattro film quando ero bambino una volta dopo averli noleggiati in videoteca ma non essendo mai stato così attratto dalla fantascienza che è uno dei generi che meno preferisco non essendo stato quindi così intrigato da queste storie ho sempre preferito lo slasher ho sempre preferito nightmare ho sempre preferito scream ho sempre preferito altri tipi di film dell'orrore non avevo più rivisto questi film e non avevo mai visto i vari prometheus covenant alien versus predator ho recuperato tutto grazie alla bella retrospettiva che abbiamo fatto sul canale di matioschi qualche mese fa che vi invito a recuperare nel caso non l'aveste fatto e quindi ho avuto modo di rispolverare tutto e di vedere quel che ancora mi mancava apprezzando bene o male quasi tutta la saga tranne i romulus prometheus si covenant un pochino meno un pochino meno nonostante sia di scott gli alien versus predator sono veramente terribili ma soprattutto il mio preferito era era l'originale cioè quello del 79 lo straordinario alien di ridley scott dove con poco e niente riusciva a crearti una tensione infinita e assolutamente era in grado anche di sorprendere anche di disturbare con quei bellissimi effetti artigianali no proprio prostetici su alien romulus intanto posso raccontarvi la trama perché abbiamo questo gruppo di ragazzi di ricercatori dopo che la loro colonia è messa male decidono di partire per andare in questa doppia stazione che trovano nello spazio e della weyland iutani e cercano di prendere quello che può servire loro per poi proseguire un viaggio verso un posto dove poter vivere in pace negli anni successivi quindi vanno alla ricerca di queste capsule criogeniche vanno alla ricerca di questo carburante che potrebbe servir loro per il viaggio sono tutti imparentati abbiamo kylie spini come protagonista che avevo apprezzato molto sia in priscilla della coppola sia in civil war da lì in poi tutto quel che succede perché troveranno l'ambiente pieno di facehugger xenomorfi e da lì cercheranno di salvarsi la vita e proveranno a non morire nella maniera peggiore possibile si vede come fede alvarez diciamo subito vuole omaggiare tutto quello che c'è stato fino ad adesso soprattutto legandosi ai film di scott quindi alien quindi prometheus quindi alien covenant cerca di replicare anche certe scene cult che hanno avuto successo la butta molto più sull'horror anche con l'utilizzo di jumpscare la butta molto sull'esplicito soprattutto nell'ultima parte del film con sangue in bella vista con acido che cola e che rovina la pelle delle persone con questi primi piani delle aperture delle bocche dalle sembianze vaginali di questi mostri ma possiamo vederci anche se vogliamo dei peni in altre circostanze quindi il tema della creazione il tema della maternità era stato fondamentale nei capitoli di ridley scott qua fede alvarez cerca di fare un mischione un po di tutta la saga ovviamente e fortunatamente evitando di citare gli alien versus predator se vogliamo ci sono anche delle strezzati delle strizzatine d'occhio ad alien la clonazione e questo su carta poteva essere un film interessante un grande no grido d'amore nei confronti di quel che c'è stato se non fosse che a me non è proprio piaciuto ma per niente dura sull'ora e 50 e arrivato alla fine mi sentivo proprio spento è come se avessi guardato per quasi due ore lo schermo della sala che non trasmetteva niente quindi la sensazione è stata la medesima sono arrivato alla fine ho detto cosa mi è rimasto nulla mi sono affezionato ai personaggi no non sono carismatici non sono minimamente intriganti per di più il tutto è ancora reso più confusionario da una sequenza di discorsi che proprio non riuscivano ad appassionarmi tutti i discorsi legati alla fisica legata legati alla missione ma con questi termini che veramente li ascoltavo e dopo un istante mi ero dimenticato tutto cioè io ho sentito dire più volte alien romulus è la copia carbone del primo ma magari ma magari magari fosse stato un film dove mostrare un gruppo di ricercatori bla 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 che da un momento all'altro nella quieta e nella tranquillità si vede uno xenomorfo arrivare ammazza tutti no qua si vuol buttare sull'esagerazione perché come a dire se nel primo uno funzionava se in aliens di cameron di più erano ancora più allettanti qua mettiamoce un'infinità un'infinità facciamo un bel purpurri di tutto quello che alla gente è piaciuto mettiamoci anche quello che alla gente è piaciuto meno e quindi si ritorna a parlare del fuoco di prometeo della creazione dell'umanità che può essere voluta attraverso un determinato siero buttiamoci tutto dentro così almeno uno può apprezzare così almeno uno può dire questa parte mi piace meno apprezzo quella che cita il primo alien quella che cita il primo alien non mi convince quindi mi piace più la parte che cita il secondo perché vuole essere un po d'azione un po horror non segue una linea definitiva e a me mi piace quando si va incontro agli omaggi quando si cambiano generi strada facendo ma bisogna saperlo fare per me fede alvarez lo fa senza identità regalandoci dei personaggi piattissimi che se fossero morti dopo dieci minuti non me ne sarebbe fregato niente ora io non cercavo un'altra sigurni weaver non cercavo un'altra replay e lo dico io da non fan però il primo film l'ho apprezzato tantissimo cioè ma questa rain ma chi se ne frega ma cosa mi importa anche se tenta di riciclare quel modo di fare quel modo di essere della protagonista del film degli anni 70 ma senza assolutamente esserne capace ma tutti gli altri che poi è tutta una famigliola è tutta una parentela c'è l'ex fidanzata c'è il fratello c'è la sorella c'è di tutto dentro questo film tranne la tensione tranne l'horror perché quando vorrebbe far paura non spaventa si sono realizzati bene gli effetti ma a me non interessa che siano realizzati bene gli effetti e meno male non si ricorre troppo al digitale bla 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 si va sul prostetico non mi interessa se però non c'è alla base concretezza nella semplicità del primo tu ascoltavi questi personaggi che comunque erano persone che potevano parlare anche della marca della birra che stavano bevendo e a un certo punto a uno gli esce fuori un alien dal corpo a un certo punto esce fuori questo stronzolino che inizia a creare panico terrore e poi c'era Sigourney Weaver anche di una bellezza proprio oltre ad essere la final girl del film la rendeva anche bella Ridley Scott la rendeva affascinata quando non c'è il minimo fascino né per né rivolto verso i personaggi femminili né quelli maschili ci vorrebbe essere ad un certo punto anche un uno di questi androidi no c'è questo androide cioè Andy che per tutto il film è quello nero ha questa situazione così che continua a raccontare delle battute continua a raccontare delle freddure che dottore soffre di insonio ci dorma sopra con lo stesso con lo stesso mood dell'espressione facciale si rivolge ai protagonisti quando c'è qualcosa che non va così come quando racconta freddure quel personaggio lì io speravo lo stritolassero in due minuti e che andasse in down costantemente e poi tutti quegli altri che ho già dimenticato voi vi ricordate il volto di uno dei personaggi dopo che il film è finito passi rain che comunque è dimenticabilissimo anche il suo diviso però poi alla sceneggiatura c'è rodo se yugs cioè quello che ha spero di aver azzeccato la pronuncia quello che ha scritto gli altri film di fede alvarez ma è anche lo stesso che era il soggetto di uno dei film horror più orribili di tutti i tempi e che andava un'altra volta incontro all'effetto nostalgia non riuscendoci distruggendo il capolavoro distruggendo proprio l'entità l'essenza di non aprite quella porta di tubù perché è un filmone che non vedo l'ora anche di rivedere ora quando ritorna nelle sale lì ci provarono a creare questo sequel alla lontana ma che era una cosa abominibile questa volta si vuol creare questo midquel fra il primo e il secondo ma ci saranno veramente dei collegamenti con aliens scontro finale oppure è l'ennesimo film che potrebbe avere ulteriori continuazioni che almeno a me non interessa vedere poi al box office non è andato male è stato realizzato con un budget che va fra i 50 e i 75 milioni ne ha guadagnati più di 370 mi pare quindi comunque il suo l'ha fatto ma sinceramente a me ha annoiato nonostante alcune cose potessero essere interessanti ma come dico sempre non è il cosa è il come se tu mi metti delle situazioni anche affascinanti dove i protagonisti devono scappare da questi vari xenomorfi perché ce ne metti come se fosse la quantità più importante della qualità mi diverto molto di più con aliens scontro finale di cameron ma ci mancherebbe dove l'azione era saputa fare dove un grande regista dimostrava come prendere quel che aveva fatto un altro grande regista e trasformare l'horror in azione con dei personaggi interessanti anche quelli stereotipati volutamente stereotipati per prendere per il culo il macismo dei marine e così via e poi cosa aggiungere qua non ti ricordi di nessuno qua anche quando la butti sull'azione tutto spento non c'è una sequenza iconica riescono sì gli effetti sul finale c'è una cosa che può essere sorprendente che si ricollega a questo mito della creazione di prometeo ma ma c'è se io penso anche qua al finale del primo quando c'era semplicemente replay che doveva dare cercare di salvarsi la vita con un solo xenomorfo con un film girato veramente con un budget irrisorio cosa riusciva a fare ridley scott cosa e qua invece che ci butti ci butti ci butti ci butti arrivi alla fine frastornato il tutto ripeto condito da questi dialoghi noiosi pesanti non ti interessa delle sorti dei personaggi non ti interessa se se anche andassero incontro ad una salvezza ad una morte e non bastano quelle scene più raccapriccianti quelle scene più disgustose quelle scene che vorrebbero andare a richiamare il tema della maternità della creazione quando non c'è sostanza quando non c'è base quando ci sono solo schizzi di sangue quando ci sono solo schizzi di acido quando ci sono solo questi facehugger che spuntano sulla faccia delle persone aggredendole e con queste mille citazioni a tutti i film della saga tranne forse a quello che a mio avviso si sarebbe collegato meglio ma ne parlerò fra un attimo nella parte spoiler quindi boh per me è veramente un film non riuscito l'ho trovato brutto l'ho trovato senza capo né coda un film dimenticabilissimo quindi fatemi sapere la vostra anche la fotografia di olivares ragazzi io ve lo dico in totale onestà ma cioè l'ho trovato tutto con questo opaco perenne questo non si sa giocare anche con l'oscurità eppure c'era una scena secondo me molto bella in cui si arriva in un corridoio in un tunnel pieno di animali alieni di queste di questi animali scusate di questi insomma alieni di questi xenomorfi però anche a livello di music e benjamin wolfish vabbè lascia il tempo che troppo proprio non mi è piaciuto sono arrivato alla fine ho detto oddio meno male è finito un'ora e cinquanta mi sembrava fosse trascorso non lo so un giorno quindi questo è il mio parere mi dispiace essere così negativo ma a tanti è piaciuto bene io mi tengo molto più stretto trap che è stato criticato da chiunque praticamente che per me più ci penso e più è veramente un gran bel film con i suoi difetti che vi ho già espresso nella recensione qua alla produzione abbiamo ridley scott e walter hill quindi si ritornano si ritorna proprio alle origini ma non mi interessa cioè non è che quando alla produzione abbiamo un grande regista è sinonimo di bel film e quante volte grandi registi hanno prodotto dei film atroci quindi fede alvarez no torna a fare un film tipo man in the dark perché qua vabbè faccio una minima parte spoiler vi chiedo di farmi sapere la vostra così ne discutiamo ne parliamo vi ricordo che nelle info potreste trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi riceverete dei contenuti extra in cambio oltre alla normale programmazione quotidiana ora io credevo si ricollegasse al secondo poi ho capito strada facendo che così non fosse anche perché quando c'è navarro la ragazza che resta incinta ho detto ma vuoi che questa magari che metterà al mondo sia la bambina del 2 ma poi no perché ho fatto un rapido calcolo perché insomma alien romulus si svolge nel 2142 mentre alien alien scontro finale si svolgevano 35 36 37 anni dopo insomma quasi 40 anni dopo e quindi è quella bambina sarebbe dovuta essere molto più grande si inizia con mostrare il mostrare subito lo xenomorfo quindi non c'è il piacere dell'attesa il relitto della nostromo con lo xenomorfo che viene preso dalla weyland yutani e poi abbiamo questa volontà di allungare la trama con tutta questa parte su un pianeta inquinato dallo smog che oscura il sole che più ne ha più ne metta questi personaggi che hanno lo spessore della carta velina che si riuniscono per andare a prendere questa questo carburante queste queste insomma capsule che possono servire per andare verso questo ivaga come si chiama il pianeta non me lo ricordo però un pianeta con condizioni di vita sicuramente più accessibili rispetto a quelle dove si trovavano recentemente sul pianeta dove si trovavano insomma lì per lì quindi abbiamo la presentazione dei personaggi che dici boh con questo momento lunghissimo nella colonna ma fammi subito partire il film con loro sulla navicelle attraverso un dialogo mi parli del loro passato ma fammeli vedere a cena tranquilli con quella bella fotografia che c'aveva il primo film ma poi vabbè lì c'era la pellicola ma fammi vedere loro che sono umani non che questo è un film che si dovrebbe collocare fra il primo e il secondo ma sembra che si collochi in un altro universo non ho notato nonostante fede alvarez tenti in tutti i modi di collegarsi di omaggiare a destra e a manca non ce la fanno non ho proprio sentito il mordente non ho sentito dialoghi che dici basta ho capito smettetela di parlare di quello e di quella mi fate vedere anche un po di tranquillità tra di voi cioè avete proprio perso lo smalto che aveva il primo film che mostrava persone che oltre ad essere studiosi e intelligenti potevano essere anche persone che parlavano del più e del meno e che come normali esseri umani cazzo vedevano uno xenomorfo uscire dalla pancia di uno qua invece tutto col pilota automatico il secondo atto sembra non esistere perché parte a bo parte in maniera noiosa e poi a bomba da quando facehugger iniziano a colpire i volti delle persone pum non c'è un secondo non lo so descrivere nel primo io te lo divido in tre atti il secondo te lo divido qua si forse c'è una parte più calma quando si racconta del fuoco di prometeo quando ci si vuole ricollegare a ma è proprio un minimo spiraglio per alleggerire un attimo la tensione che non esiste quindi alleggerire un attimo il il susseguirsi delle varie cose per poi andare incontro sempre a questo finale ma io già quando ho visto quando ho visto il tizio ianulm praticamente poveraccio ricreato con la i o come l'hanno o come l'han fatto cioè l'ho visto in quel modo è orribile ma questa è roba da farci veramente i meme da qui al 2049 ma ragazzi ma ma veramente è stato ricreato in maniera digitale per andare a rifarsi ad ash ma più che ash veramente del primo alien pareva ash dei pokemon ma con un cappellino che gli era rimasto tra un occhio e quell'altro e gliel'aveva deturpato il viso perché veramente c'è il personaggio di rook che ovviamente deve lavorare per per la compagnia e quindi alla fine quel liquido bisogna portarlo lì ma noi si fa che ci pare si va verso invece dentro la capsula criogenica rain con hendy che ha fatto il diavolo a 4 anche lui e lo vuole anche salvare e quindi deve registrare poi il messaggio come aveva fatto replay e ma io spero non ci arrivino in quel pianeta ma non mi importa niente di voi ma ma come si fa ma fa ma perché dovete fare un fanservice così fatto male ma c'erano le citazioni alla nostroma lo xenomorfo ripreso ma c'erano le citazioni che potevano starci a covenant a prometheus ma chi se ne frega di rivedere quello e c'aveva una faccia pareva veramente non lo so ma 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 pareva ma pareva pikachu sodomizzato da tutti i digimon cioè ma ma cos'è ma che c'aveva gli occhi gli andavano un po su un po in giù il naso tutto storto ma perché mi devi rifare ian olman per è morto ma lasciatemelo cioè io capisco in certi film quando col digitale quando serve lo fai perché è il momento fanservice che può funzionare ma non sempre in questo caso per me visto che non è nemmeno lo stesso personaggio anche se entrambi erano androidi ma fammene vedere un altro magari citami asce citamelo ma non mi fare se ti se tu se se quella faccia lì sembra la faccia che io posso scorgere in una persona dopo aver mangiato 16 funghetti allucinogeni ad amsterdam renditene conto in post produzione non me lo mettere una roba orribile atroce a me lì veniva da ridere s'ho sceso proprio dalla giostra se prima non c'ero poi dopo non mi interessava niente una roba ripetitiva dialoghi infarciti di 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 roba complessa che non mi interessava per raccontare una roba invece semplicissima non c'è coesione fra i personaggi ci vorrebbe essere anche questa critica alla diversità al razzismo perché il 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 personaggio lì di andy tu non sei una persona ovviamente lo fai anche interpretare ad una persona nera quindi poteva esserci il sottotesto della discriminazione ma è tutto buttato lì è tutto perché sì e io quindi sono arrivato alla fine ho detto alien romulus alien romulus ma magari ci fosse stato romolo vero e avesse fatto piazza pulita di tutto quel che ho visto questo film proprio non mi è piaciuto e poi ripeto non ci si collega nemmeno al 2 quindi io pensavo fosse no quella colonia tutta quella gente trovata morta distrutta con le navicelle disintegrate bombardamenti nel 2 noi con la bambina ho detto ora magari scopriremo qualcosa in più sulla bambina niente di tutto questo perché potrebbero essercene altri chi lo sa sicuramente non ho voglia di vederli nonostante sul finale anche l'idea di prendere l'umano xenomorfo ingegnere quindi questo connubio tra l'altro interpretato da un attore vero che molto bene che ha quelle sembianze lì e quindi molto bene lo hanno tutto lo hanno tutto come si dice lo hanno hanno creato questo make up molto bello molto veritiero dove il prostetico regna dove insomma è tutto fatto bene io non ho niente da dire sulle effettistiche è che non mi basta se ci fosse stato anche il digitale ingombrante l'aver proprio distrutto malamente ma già così non mi basta perché anche lì questa cosa poteva essere interessante ma io se penso al finale di replay con lo xenomorfo se io penso a quel finale dove c'era veramente anche lì un uomo nascosto in un costume ma quanto quel finale lì ma dov'è dov'è nascosto striscia qua invece ci devi buttare tanta roba ridondanza 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 e niente quindi fatemi sapere la vostra ma io sono veramente sono veramente rimasto a disagio dopo la visione di questo film che si colloca proprio tra i più brutti dell'anno senza se e senza ma e mi perdoneranno i fan di alien perché a differenza di un filmaccio horror come può essere la profezia del male la profezia del budello di tu ma e tutte queste cose qua qua c'era anche proprio la possibilità di andare a riprendere a piene mani da un capolavoro del fanta horror cioè non stavi raccontando il solito filmino marcio co fantasmi o co tarocchi o co demoni stavi raccontando un qualcosa che poteva andarsi a ricollegare in quella saga tu hai questa possibilità e mi fai una cosa che proprio boh vabbè ciao ragazzi